Si terrà il prossimo 5 novembre la terza conferenza regionale sulla lingua friulana organizzata dalla regione Friulavezza Giulia e dall'Arlef. Un vertice importante su quanto è stato fatto e quanto resta ancora da fare per valorizzare e tutelare la marilenghe. Un tagliando dell'auto che serve a mettere a punto il motore e a fare più chilometri. Così viene definita la terza conferenza regionale sulla lingua friulana in programma il prossimo 5 novembre all'auditorium Comelli di Udine. Un momento di analisi sul presente e sul futuro del friulano utile anche a raccogliere spunti e proposte. È sicuramente una tappa fondamentale per la legislatura. La conferenza regionale è sì prevista per legge ma se la legge l'ha prevista c'è un motivo ben preciso. C'è la necessità di fare un tagliando, una sorta di tagliando su quanto è stato fatto in rispetto allo sviluppo e all'implementazione della lingua friulana sul territorio e quanto bisognerà fare. La conferenza serve per tracciare nuovi percorsi di una storia identitaria già molto affermata e riconosciva la nostra comunità. Cioè la comunità si basa su solide basi che quelle del friulano proprio ma il friulano va ripensato e rilanciato verso il futuro, quindi verso le nuove generazioni ma anche verso i nuovi metodi sociali, il nuovo modo del lavoro, dello spettacolo. Cioè va in qualche modo rinnovato e ringiovanito per mantenerla sempre al centro di quella che è la base della nostra comunità e specialmente della specialità di questa regione. La lingua friulana è un unicum nella Mitteleuropa e chiaramente apre le porte a tutto quello del mondo che è un mondo germanofono ma anche slovenofono e quindi è importante che venga utilizzato e che venga anche utilizzato bene nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole e come si diceva prima in tutte quelle occasioni in cui si può dare un'ufficialità alla nostra lingua madre.